John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo video allora, 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 si è parlato tanto del rinnovo, del probabile rinnovo di Florenzi io volevo parlarne in un video, intanto mi mette fuori fuoco come sempre e qui alla mia destra vado a mettervi appunto l'articolo di OneFootball allora, si è parlato di una richiesta di Florenzi di 4 milioni di euro l'anno e io ragazzi, cioè, se fossi il presidente della Roma mi si presenterebbe Florenzi con tutta l'amore del mondo, mi fa, io vorrei firmare il contratto, 4 milioni l'anno me lo gira, io prendo la penna e scrivo no, poi strappo il contratto e lo lancio con tutto il rispetto, io amo Florenzi, Core di Roma, Alessandrino, bello di nonna ma 4 milioni di euro l'anno ragazzi, anche no ha ragione a chiedere il rinnovo, ha molta ragione a chiedere il rinnovo lui guadagna 1 milione e 7 l'anno, che diciamo sono quanti ne guadagna Bruno Perez 3 in meno di Gonalon, 3 in meno magari, 5 in meno, cioè, 3, no, 3 milioni, 300 mila euro in meno di Gonalon 300 mila euro in meno di Gonalon, 500 mila euro in meno di Juan Jesus 700 mila euro in meno di Schick, insomma, ci sta che voglia guadagnare più di altri giocatori che magari gli fanno panchino e gli stanno dietro è ovviamente corretta come decisione quella di chiedere un rinnovo io non giudico nemmeno il momento in cui ha chiesto il rinnovo perché poi magari qualcuno dice, ho capito Schick, ma però perché ha vinto il Barcellani e la Champions League, ma tutti i fenomeni, no il discorso non è questo se a me, dopo che siamo, tipo, sei un giocatore del Napoli adesso, sei presente e chiede il rinnovo da 1 milione e 7 a 4 milioni non faccio i jemenano perché sono usciti dalla Champions League, dall'Europa League, dalla Coppa Italia più arriva a secondi e ottenere quello che due tra Roma, Inter e Lazio otterranno quindi ugualmente come il Napoli, ok, magari ha fatto una grande stagione ma alla fine che cosa ha concluso? Ha ottenuto una qualificazione in Champions League quindi qual è il discorso, ragazzi? il discorso è che, secondo me, ci sta a chiedere il rinnovo adesso 4 milioni, no 4 milioni adesso li guadagnano solamente Nainggolan, 4,2 e Dzeko 4,5, almeno guardo adesso qui questo dato aggiornato inizio anno non so se, insomma, hanno rinnovato qualche altro contratto io credo che la, diciamo, il rapporto fra la Roma e Florenzi debba continuare per forza perché Florenzi è un giocatore importantissimo per la Roma che potrebbe essere il futuro della nostra squadra fra l'altro comunque ha un contratto che scade al 2019 quindi gli è rimasto solo un'altra stagione ed è giusto rinnovarlo lo rinnoverei anche per 5 anni, per dire però gli farei un contratto to a 3 3? 3 ci sta 3 ci sta, ragazzi, 2,8 2,6, io farei, forse farei io tu adegno 1,7, do 2,7 2,7 ho un milione in più l'anno penso che Florenzi comunque accetterebbe andrebbe ad essere il quinto giocatore che è più stipendiato nella Roma dopo Giacone Golan, Stratman e De Rossi però, insomma, supererebbe Juan Jesus supererebbe Schick supererebbe il Sharawi a livello di prestazione di nuomi ci sta, ragazzi non credo sia possibile negare questo però, comunque, diciamo che per me 4 milioni l'anno, ragazzi mai, mai cioè, cosa, che? 4 milioni ma scherziamo, ragazzi 4 milioni di che? di no 4 milioni di volte? no, 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 no 2,7 magari sì raga, 4 milioni mai nella vita in questo momento 4 milioni quanti le guadagni ha Ibra? 1,8 con tutto il rispetto, eh cioè, ragazzi e dai, non scherziamo in questo momento solamente Giacone Golan e Alisson si meritano di guadagnare 4 milioni di euro a Roma tutti gli altri per favore sotto detto questo fatemi sapere come sempre voi che ne guardate ne pensate io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mi piace e vi è piaciuto direi che si è fatto cagare buon salaralla qui mi iscrivono e noi ci vediamo sempre ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti No, no, no